Quando siete tristi, depressi o avete un tono dell'umore molto basso, avete mai avuto un rituale per stare meglio, un'abitudine che vi fa sentire meglio? Potete anche accendere un incenso, ad esempio, il profumo intenso e molto forte viene utilizzato in molte popolazioni per elevarsi in modo spirituale, anche per quanto riguarda la meditazione, per le pratiche di yoga. Il suo profumo, infatti, può essere anche utilizzato per andare a liberare la mente, per rilassare il corpo e lo spirito, ma nello stesso tempo darci l'energia giusta per affrontare le sfide quotidiane anche. Lo puoi accendere sempre negli ambienti di lavoro o a casa, ad esempio, per purificare l'ambiente, dunque anche per togliere negatività o comunque anche per andare a ripulire l'ambiente. Lo puoi passare in ogni angolo della casa oppure anche lasciarlo acceso. Una volta acceso, sarebbe l'ideale tenere tutto aperto, dunque le finestre aperte, che si arieggi bene l'ambiente. L'incenso può essere un ottimo rimedio per andare a creare lucidità mentale quando siamo depressi, tristi, ma anche abbiamo questi pensieri ripetitivi.